Ah, raga, sono proprio figa comunque Ciao a tutti, sono di nuovo in compagnia con le mie sorelle, Giada e Delisa Perché oggi si sfideranno a chi mi trucca meglio La challenge consiste in questo, praticamente ognuna delle due mi truccherà a metà faccia E vedremo quale metà verrà meglio Via, cominciamo Pronto per essere truccato Poi mi passi il correttore Lì, sono già cominciato Chiudi l'occhio? È che io ho finito il correttore Oh, ma pure... Oddio, aiuto Quindi, vuol... Oddio, raga, cosa state facendo? Controli che questo fosse un video ASMR No Tipo, perché il mio... Tipo, no, è più qualcosa tipo... Sembra una convention di doppiatori di Antaro Anche con gli occhi più scuri, cioè non mi avete truccato gli occhi Tap, tap, tap Secondo me Ci prendi gusto E cominci a truccare pure Mi aiuterò È un trucco naturale Ah, ma come lo vuoi? Ti fa meno la doccia dopo Sì, lo puoi fare naturale Cioè, questo qua ci poteva andare all'università A comprare la verdura con l'autocertificazione No, io invece lo voglio fare strong Wow Apri l'occhio Sì, ma scusa Io ti mangio in testa No, capi le mie tecniche Ma come? Gli pari apriloggi e cudeloggi Anzi Ma a me mi ha insegnato Bobby Brown Ma che cavolo ne fai Noi mandiamo tutti i clip La salutiamo Le mandiamo i miei auguri per Grace Sono fanna E la bambina che verrà dopo Grace Apri Perché non lo fa? 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 Ma non lo fa? Battona Ma no, io ho detto che lo volevo fare forte Apri Apri Sto mi dici da chiude Questo non mi dico Sto facendo un po' così Oddio mio Oddio mio Ah, che canta Per 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 Tutti giorni canter Davvero Devi stare fermissima che ti voglio mettere l'aliner No, aspetta Io so fare l'ombretto sotto Apri Oddio santo Ma come fa da fare sta roba ogni giorno? Ok, chiudi l'occhio Devi stare immobile Scusa Rita Ma forse mi sto un attimo A distruggere Apri Scusa Yuki Scusa 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 Poi vediamo che ne pensa Virgina Ma tipo Alla fine il trucco è come i Facetoon Dai Ma la cosa che mi da fastidio è che sono diverse Guarda, io ho risaltato quasi il verde Io devo mettere metà rossetto non lo fai fare? No, il rossetto no, regà Comunque è un po' bravo Non manca il rossetto al lato tuo eh Non te la metto perché sennò ci metti gli anni e toglierti la Allora, questo è il lato di Giada e questo è il lato di Elisa A me quello di Elisa non piace Sembra un trucco da 2016, il mio è molto più moderno Sì, è più bello quello di Giada Mi dà proprio fastidio il fatto che, a parte che questa parte di coso mi brucia Perché mi brucia, non male Quello è il bumper un pochino, è vero Vabbè però è poco, cioè non c'è mancano gli alluroni dentro in teoria Vabbè, niente, questo era il mio trucco ragazzi No, allora, a parte di scherzi Non so come andare avanti Allora, questo era il trucco That's it, that's the video No, a parte di scherzi, regà Questo è il trucco che mi ha fatto Giada Questo è il trucco che mi ha fatto Elisa Decidete voi qual è il migliore Ma lo dico io Anche io dico che è il più bello quello di Giada Anche io dico che è il più bello Per me mi sembra uguale Detto questo, vi ricordo di andermi a seguire sui miei canali Instagram TikTok Sono sempre Vincenzo Quattino Basso Cairo Ciao da Cairo su Instagram E l'Elisa Posso mettere il sondaggio sul mio? E niente No, non è giusto Anche tu lo metti Anche tu lo metti